In Leonardo 3 abbiamo fatto un lavoro incredibile lunghissimo, è stato un lavoro di Tim, Pino Canino, Alessandro, tutti i nostri collaboratori ci hanno aiutato a ricostruire una cosa incredibile. L'ultima cena oggi è completamente distrutta, provate ad aprire un libro, andate a vedere un ingrandimento di Gesù, se lo fate vedere è un bambino, vi dirà che è una cosa brutta, è un disegno brutto, ma è questa la verità, oggi l'ultima cena è completamente distrutta, abbiamo ricostruito l'ultima cena con i colori e i soggetti di 500 anni fa, andando a ripescare tutti i suoi, le chiamiamo fotografie, al tempo non c'era la fotografia e quindi i copisti, le prime persone che facevano le prime copie ai quadri, facevano proprio una fotografia di quello che era al tempo, grazie a questi reperti storici abbiamo scoperto e sono andato a guardare a studiare ogni singolo particolare che è possibile ricostruire l'ultima cena così come era nel 1500 e qui alle mie spalle vedete la rappresentazione a colori, perché Leonardo aveva utilizzato dei colori ad olio, questo è un trucco ma è anche un inganno, perché Leonardo che utilizzava i colori ad olio ha condannato a morte l'ultima cena, perché questi colori ad olio su una parete non dovevano andare, Michelangelo lo sa benissimo, su una parete si mette una fresco, invece Leonardo Testardo voleva mettere i colori ad olio, perché avrebbe fatto una cosa perfetta come la Gioconda, ma questa cosa ha fatto in modo tale che la cena poi si è distrutta, oggi abbiamo ricercato, ritrovato tantissimi segreti dell'ultima cena, addirittura i piedi di Gesù esistono veramente e tramite un foglio di Leonardo abbiamo ricostruito i piedi, delle cose curiose, se guardate i piatti sulla tavola ci sono dei piatti che sono colorati, verdi, blu, rossi, è una cosa molto strana, ma se guardate attentamente scoprirete che il piatto è colorato di rosso quando sopra c'è un personaggio col vestito rosso, questo vuol dire che riflettendo il vestito Leonardo fa un piatto che non è di bianco come quelli che usiamo oggi, ma un piatto che deve essere di metallo e allora la logica vuole che quel piatto di metallo è un piatto della Milano del 1500, si scopre così che l'ultima cena è ambientata nel 1500 a Milano e noi scopriamo esattamente che cosa? Che quello che si vede sulla tavola era quello che mangiavano i frati e quindi anche Leonardo da Vinci nel 1500, ci sono tantissimi segreti sulle tecniche che Leonardo utilizzate, qui nella mostra con il nostro lavoro nei touchscreen multimediali scoprirete voi come ricostruire l'ultima cena e ridipingerla, ma soprattutto i segreti, qui non abbiamo tempo per dirveli tutti, ve ne dico soltanto due, una cosa curiosa, all'ultima cena a Milano è molto alta, è molto grande, con una scala se si riesce ad andare su non vi daranno mai il permesso, ma se si guarda la tempia di Gesù c'è un buco, è una cosa stranissima, perché c'è un buco nel muro? Perché Leonardo aveva usato un'antica tecnica che gli aveva insegnato il verrocchio, che è quella della prospettiva, la prospettiva ha un punto centrale, allora lui aveva messo proprio con un martello un chiodo al centro del muro, perché collegando con delle corde questo punto centrale, con i lati della stanza, collegati a se stessi con le finestre, le vere porte, lui poteva tracciare con un solco sulla parete direttamente delle linee perfettamente dritte, era la tecnologia del laser inventata e costruita da Leonardo nel 1500, quindi questo ci insegna che basta usare il cervello per diventare un Leonardo da Vinci. Un'altra curiosità, c'erano i trucchi della candela, delle ombre sul muro, ci sono tantissime cose incredibili, addirittura abbiamo scoperto che ricostruendo l'ultima cena, così come era fatta nel 1500, si vede che la sua prospettiva potrebbe essere anche sbagliata, perché un uomo dovrebbe essere alto 4,40 metri, ma questi altri segreti non ve li posso dire tutti, lo dovete venire qui a vedere alla mostra. Possiamo considerare Leonardo da Vinci un divulgatore della scienza? Non lo so, perché divulgare la scienza vuol dire pubblicare dei libri, fare delle mostre. Oggi con queste mostre noi stiamo divulgando non solo la passione per l'arte, ma anche la scienza e per divulgare la scienza bisogna andare a insegnare. Leonardo aveva insegnato arte, non aveva insegnato scienza. C'è una cosa molto triste che bisogna sapere, tutto il suo sapere di scienziato che è contenuto in decine e decine di questi libri, che sono avanzatissimi e ci dimostrano il Leonardo da Vinci scienziato che ricerca, studia tantissimo e trova addirittura anche delle soluzioni. Il codice di Bill Gates sono soltanto 16 fogli, ma lì dentro addirittura si trova un Leonardo che studia la Luna e i pianeti, una cosa incredibile, e in altri manoscritti realizza dei planetari meccanici. Leonardo era sicuramente più un ingegnere, ne aveva fatte di tutti i colori, metà dei suoi manoscritti sono lui che studia gli antichi e metà dei suoi manoscritti sono lui che cerca di trovare nuove soluzioni e nuove invenzioni. La cosa incredibile è che in questi manoscritti non solo si trovano cose difficili da comprendere, ma ci danno l'ispirazione per diventare noi talmente curiosi come Leonardo che la passione per la curiosità, l'interesse per la natura ci può portare a fare sempre di più. Non bisogna mai arrendersi come insegna Leonardo e non bisogna mai smettere di studiare. Nel Museo Leonardo III a Milano, fatto da me, Edoardo Zavone e Massimiliano Lisa, c'è la storia di quello che abbiamo fatto in questi anni. È iniziato con una piccola mostra a Milano, man mano abbiamo continuato a studiare sempre di più. Ogni giorno studio i nuovi manoscritti, ogni giorno con testardaggine cerco di ricostruire una macchina che trovo nei codici. Ogni mese facciamo una nuova cosa, una software multimediale e questo è l'importante della divulgazione scientifica, mai arrendersi. Ci sono 6.000 pagine di Leonardo, ci sono sicuramente 6.000 macchine da costruire e il mio mestiere è quello ogni giorno di trovare questi disegni, cercare di ricostruirli prima col computer perché è molto utile ricostruirli col computer perché è una specie di falegnameria virtuale infinita. Io posso andare nel computer, avere a disposizione centinaia di materiali e provare a iniziare a costruire le sue macchine. Vedo se funzionano, se rispettano la filologia macchinale che vuol dire andare a rispettare la macchina nel suo tempo. Questo vuol dire che per esempio per costruire una macchina di Leonardo non possiamo usare le viti o la colla come ci pare. No, dobbiamo andare a guardare qual era la tecnologia del rinascimentale per ricostruire esattamente quello che voleva Leonardo, come voleva Leonardo. Con grande passione vi posso dire che la più grande ultima macchina che ho costruito, l'Aquila Meccanica, che è in Mostra Milano, in Piazza Scala, è un'apertura di 12 mestri, è una macchina in scala 1 a 1 e forse veramente funziona. Quella macchina è fatta nei mini in particolare come un'opera d'arte. Quello che dico io è che mi piacerebbe ricostruire le macchine così come Leonardo le ha volute, così come le voleva lui e con orgoglio posso dire che noi di Leonardo 3 ogni 4-5 mesi riportiamo in vita per conto di Leonardo, come se Leonardo fosse lì presente con noi, una sua macchina, perché lui non ha avuto neanche il tempo di costruire tutte quelle macchine, ne aveva fatte troppe e forse non basterà ancora 100 anni per ricostruire tutto il suo sapere. Oggi abbiamo tanti software multimediali, abbiamo Wikipedia, abbiamo Internet che è un mare magnum del sapere, ma è anche un mare magnum delle fesserie. Purtroppo è difficile far capire ai nostri giovani ragazzi cosa c'è di importante e cosa c'è di falso. In Internet ci sono più stupidaggini, ci sono gattini, ci sono cose incredibili, anche documentari su Leonardo extraterrestre, su delle cose pazzesche, perché fa audience, fa fascino andare a scoprire dei segreti morbosi su Leonardo. In realtà dobbiamo cercare, noi come scuole, le università, i musei, di cercare di studiare le cose serie, comunicare le cose più importanti e aiutare i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri studenti a cercare di distinguere qual è la verità e qual è il falso. Purtroppo in Internet c'è il 99% di stupidaggini e l'1% di cose giuste. Noi dobbiamo insegnare con le mostre a cercare di focalizzare l'interesse dei ragazzi, fargli capire cos'è la vera storia, in modo tale che loro sappiano, andando su Internet, distinguere tra il vero e il falso. Lo studio della storia non è noioso, è fondamentale per non farsi fregare, per non diventare degli stupidi in Internet. Bisogna sapere le cose. E se invece noi non conosciamo, non studiamo, non veniamo a vedere queste mostre, rimarremo sempre in quel limbo in cui crederemo a tutto e tutto ci sembrerà confuso. Le mostre, anche se sembrano cose vecchie, sono fondamentali per la divulgazione non solo del sapore scientifico e mostrare delle meraviglie, ma servono per mirare e focalizzare gli studenti sulla verità scientifica e storia, altrimenti li perderemo. Grazie. 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 Grazie.